Senti qualcosa Manu? Si sento qualcosa Buongiorno ragazzi o buonasera come... Dipende quando vedrete sto video Allora oggi siamo in... Questo primo episodio della nuova serie La serie appunto sulla Wildback Tal Oggi siamo in compagnia di Mario Ciao a tutti Poi su TSC c'è anche Agro Buongiorno Mi salutava per secondo Eh vabbè dai Sono cose che capitano Agro Eh me lo ricorderò poi Sì va bene Poi a breve arriverà anche Fede Appena resuscita Metti giù quella motosega te Attenzione adesso arrivano gli operai che si rivoltano Eh cominciamo Allora Vedi a fare il capo cattivo Ecco bravo Sì sì va bene va bene Allora come vedete abbiamo solo 3986 euro Perché in questo salvataggio siamo in difficile Quindi appunto partiamo con pochissimi soldi Adesso andiamo a vendere un paio di cosette che non ci servono Io mi prendo il Deutz Vada vada capo Sì ovviamente Comincio già a disfar tutto Subito Dai Eh anche qua Ovviamente io ho sempre il ping alto Chissà per quale oscuro motivo Allora io prendo il Unigine di mezzo Sì agro Sì va bene agro Lo aggancio io il carro per le palle? Eh te prendi il Brantner Che è quel trabiccolo lì Non so se ce la fa tirarlo Eh sì dai Vediamo se magari entro domani Risco ad agganciarlo Dai Benissimo Adesso possiamo anche andare al negozio Sempre se non lagga e faccio disastri Ok non si sa mai Ai Eh non so perché ho il ping a 130 Devi scortare te perché non so la strada Sì sì seguimi seguimi Allora dobbiamo andare di qua Intanto qualcuno ha scritto Potrebbe essere Fede che è risuscitato Sì è Fede Fede sei risuscitato Benissimo Ciao Fede Ehi Oh buon dai Ho appena iniziato Saluta pure Ciao Va bene adesso se vuoi puoi entrare Intanto noi stiamo andando a vendere Eh Quelle due cosette che non servono Adesso appena parte la scelta Sincro faccio un taglio piccolino Ci vediamo al negozio Ecco sempre se no tiro giù tutti i pali Tanto I pali della luce li ha presi lui Sì sì Oggi sto laggando da far schifo Che schifo mi viene il vomito Ecco un altro Ciao palo E volevo vederlo da vicino sto palo Scherzo Scherzo Ecco Dai ce la posso fare ad arrivare entro la settimana prossima al negozio senza disfar tutto Perché se disfiamo tutto poi non è che vada tanto bene Va bene sincro ci vediamo tra pochissimo Allora benissimo siamo arrivati al negozio Allora qua che si vende Quindi possiamo vendere questo qua che tanto non ci serve Poi almeno facciamo due soldi Poi adesso appena Basta laggare Oggi ho la connessione che vado a schifo No fammi uscire Mi fai uscire Non ci fa uscire Boh sono riuscito a uscire Allora se adesso Arriva Mario vendiamo anche l'altro carrettino Minuscolo Sì adesso sono qua E poi c'è C'è Fede che è già pronto con la trebbia Che poi iniziamo a trebbiare i campi Che abbiamo il campo Cos'è il campo 8 E il campo 6 da trebbiare Sì Allora Sì vai là dietro che è là dietro il trigger Là dove c'è il Deus Allora noi ci ne dobbiamo tornare dentro Non so perché sono uscito allora Hai staccato? Dimmi quando posso vendere Vai vai Allora vediamo questo carrettino Perfetto Allora intanto 15.000 euro li abbiamo Direi che possiamo tornarcene a casa Allora adesso Mario io ti lascio il Deus Perfetto ti metti a seminare il 5 No cos'era Il 5 si a colza E io do il 5 Adesso ti faccio anche vedere qual è C'è quello la Dietro la farm Se riesco senza farlo ubriaco Perché sto sbandando come non so che erano E io starò al campo 6 ad aiutare Fede che lui adesso trebbia Sei riuscito a tirar fuori la barra da dentro? Ah va non riesco Allora adesso arrivo io In qualche modo la tiriamo fuori Sì Allora tiriamo giù tutto Fortuna che non c'è la collision Ecco un altro palo Oh li becco tutti io i pali E poi dici di gralco Ah va beh lui è un caso a parte Vabbè se stasera è la connessione va Sì infatti ho il ping a 120 130 Beh io al massimo sto arrivando a 100 103 massimo Pingo Quindi si abbassa Eh ma non so cosa oggi la connessione mi lagga così Oggi nel freno laggava Non so Ragazzi sono tutte scuse perché se no dopo Eh fa vedere che guida male Sì scusi tutte scuse Sì sì La connessione La connessione agra Tamposito va La connessione che Ma sì dai taglia Ecco Ah ma non sono capace di non far danni oggi Sempre Manu Eh no sempre no però Anche l'ho pensato solo che Admino il servo Eh admino il servo Non l'ho detto basta non c'è Beh anch'io sono admino il servo Allora dai Eh c'è un po' di strada arrivare al negozio però dai Ma lo sapevate che i carri avevano le chiavi? Molto interessante agra Beh non lo sapevo Allora scendiamo in corsa Prenditi il deus La seminatrice è qua dentro Ehm Devo entrare dall'altra parte Che non lo sapeva che il lagga così Guarda che roba Guarda che roba Allora Vediamo se riesco a tirarti fuori la barra Allora qua ci siamo Eh allora sì mi sto portando Ti stai tirando anche la trincetta lì Ma sì chi se ne frega Si facciamo da anni dai Dai su Eh se è incastrata la trincetta lì non riesci a tirarla fuori L'imposta fuggì Allora facciamo una roba Si ecco bravo agro Ecco il suggerimento Bravo agro Una volta tanto ti rendi utile Allora troviamola La barra L'imposto Ok Il carretto penso di farcela Tirare fuori Poi chissà quando Va Fede prenditi pure la barra Tanto vedo se riesco a spostare Si fai colza colza Allora Vediamo di levare da qui Sto farino qua Poi dovremmo usarlo anche E lo useremo Va bene Si Senza che mi investi e robe che vada Non l'ho fatta apposta E mo sta laggando anche me Allora Stacchiamo qua sto trabiccolo E mi devo prendere i carri Trabicolo Si è un trabicolo Un trabicolo Allora Se riesco ad agganciare Sti due carri qua Poi mi sa che li cambiamo sti qua Perché io con i rallati Proprio faccio solo danni Quindi Meglio che non uso rallati Si cosa ridi te Allora Andiamo di qua Ecco mi sto già incastrando Ecco ovviamente la Se sta connessione non mi fa sempre girarlo Sbalotes Non è contenta Cazzi di strade strette E anche un po' il bello di questa mappa Eh lo so Eh si buonanotte Che cazzo succede Perchè non riesco passare Ah Ce l'ha da Allora Cartello Allora 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 Campo che devo tagliare Allora inizia pure dall'otto Si Ma l'otto Ah si qua Si si E' nostro E' nostro Ci andrà una vita lo so Ma Faremo filato Allora Io ti aspetto qua perchè Facciamo così Non pestiamo Facciamo un po' le cose per bene Comunque tu ti dico tanto delle trinciottine così Però Quello che oggi era qui a trinciare Adesso c'ha la 970 Ma hai iniziato con una trinciottina così E c'ha lo xero in 3008 Per dire Eh si si lo so E hai iniziato con quella trincia lì? Fa sempre comodo Anche quello Un Fend Spetta Tipo 312 Ma Farmer E Un Fiat Agri 180-90 Quindi Quello mi dispiace Ma adesso c'ha solo Fend Tranne l'oxerium Allora Allora Vediamo un po' Fede che Trebbia Intanto Come vediamo in alto Dal Inspector Mode È al 23% Sì poi abbiamo anche Sì Una notte Abbiamo anche già 5 vacche Ho già fatto un po' di concime liquidi Quanti? 5 Che ce le danno all'inizio 5 Quindi poi dovremmo Se in alcune mappe ce le danno già Sì sì Eh così Eh così dobbiamo fare anche già Asilato per le vacche Tutto Anche erba dobbiamo fare Eh Erba Ma fa lì è bella perché c'è il mini biogas Sì eh C'è il mini biogas che è incorporato lì Con le trincee delle vacche È tutto lì È tutto vicino Quello Allora E io adesso non ho niente da fare Perfetto Io con il mini biogas Trovo una cosa molto intelligente Perché comunque Sì sì È comodo Quindi sì sì È tutto piccolo Su sta mappa poi c'è solo questo Vabbè Sì vabbè Non ci starebbe C'è un biogas C'è un biogas C'è il trincee Cazzo Poi sta molto Appunto In sta mappa Non servono BGA giganteschi Ne basta anche uno piccolino Così Eh sì infatti Anzi è più che giusto Questa mappa secondo me Il trattore più grosso sarà Difende qualcosa No infatti Come mezzo più grosso Abbiamo messo Il classarion Che è 184 cavalli Basta e avanza 184 cavalli Cazzo ragazzi Sì Per essere precisi Precisi Sentimi una volta Con quella mappa lì Non ci crederai ma Sono entrato dentro Con il trattore Porta per fare il piccio C'ho le schienze Ah perfetto Allora intanto io sto Disfando lo stair Beh anche qua però Ce l'abbiamo un po' di forestale Eh sì sì Dovremmo fare un po' di legno Anzi Quella mappa lì è tutta Per la foresta Beh e anche per la foresta Anche la farm Sì Allora Fede Fa una roba Apre il tubo Che scarico un po' Sì Perché se no io sto qua senza Oh però a fine da questa trebbia qua Della mio uomo ancora piccolino Non è anche tanto male Non è male Non è male Però a me a me piace di più la shampoo Che la tc Sì la shampoo è più bella Ho dei pezzettini Aspetta che ci ripasso Sì sì Sto usando la visualità dentro Non vedo tanto bene Possiamo fare una cosa Intanto Oh Una cosa furba Possiamo fare Intanto che te Fai qua Sì Io so stacco qua nella stradina I carretti Vado a prendere l'autocaricante E inizio già a raccogliere la paglia Va benissimo Così ci Mettiamo anche meno Sì Però Oh Manu Problema Io ho quasi finito Allora Benissimo Allora quando è finito Mi fai Quando è finito Mi falci l'erba lì Che c'è nel recinto Da qualche parte Trovi un po' d'erba E me la falci Eh sì Cosa sto facendo Ma Campo dove non si scegna Eh? Un pezzo di campo È baggato È colpa di agro Scherzo Ma fate Fiori la scuola di Davide Sì Lascia stare Davide Colpa di Davide 0-1 Lascia stare Quella va Anche se è del 2002 Però Come si chiama Davide Sì Non si capisce il senso di sta cosa Vabbè oh Le andane le sto facendo bene Sì Di paglia Allora io Sto continuando a laggare Stralaggare Va bene Secondo me sto video Solo per i lag Viene fuori schifoso Poi Eh colpa di sta linea Mi dispiace Ma Non è colpa mia La linea che va da schifo Eh purtroppo ragazzi A delle volte abbiamo dei problemi tecnici Così Troppo così Allora Finalmente Attaccato Sto carretto qua Tutta colpa dei nerd Comano troppo con il più Sì Allora dai Vediamo se riesco a combinare qualcosa Ecco Guarda se c'era La damage mod O comunque qualcosa per i danni Ero già al 100% con tutti i mezzi Ah perché adesso c'è anche la mod per i danni No non c'è Sì sì Per il 15 non l'ho ancora vista Per il 13 so se che c'era Per il 13 sì Per il 15 non l'ho vista Ok c'era per il 13 C'è però è una di quelle mod lì Ah Non consigliabili No non consigliabili Non perfetti Non c'hai permessi Non c'hai permessi Ma no Ma lì è permessi Non è fatta benissimo Magari c'è qualche volta Ah ecco No io non l'ho ancora vista però L'ho vista sul sito Ah Qualche sito strano magari Oh Dopo te lo dico Allora Qua facciamo un pochino di paglia così Per darlo subito alle vacche Poi Per il resto facciamo balle Poi ne andiamo a vendere E poi Carri per balle abbiamo deciso di mettere Dove cavolo è Questo qua Il Marshall che c'è sul sito ufficiale Perché È comunque meglio del Fliegel originale Non al blocco Né niente Ma almeno È già più comodo per le manovre Perché l'altro è un rallato Io non mi trovo proprio Poi abbiamo messo Sta seminatrice qua Che poi la prendiamo Anche questo Giusto per avere roba piccola Ah ma è il carrettino Della paglia piccolo Sì per le balle Poi abbiamo messo anche Questo Fiat Agri 160-55 Che Ad alcuni di voi Pacerà Penso Cioè Ma è quello pubblico Sì sì È quello pubblico A me I Fiat non piacciono Quindi non mi piace tanto Ma l'ho messo più che altro Perché Un cingolato in montagna Ci stava bene Ho preso quello più grosso Che c'era Era questo Vabbè Volevo mettere il Lamborghini Ma Mi hanno detto No Prendi quello più potente Il Lamborghini era più meglio Sì Il Lamborghini lo so che è meglio Però era più piccolino Almeno questo c'ha Qualche cavallo in più Anche se è un Fiat Purtroppo Va bene Direi che La paglia basta così Questa quella Scarichiamo subito Dalle vacche E me ne avanzerà anche Di sicuro Perché 5 vacche Di sicuro Me ne portano via poca Poi prendiamo Quella Sottospecie Di imballatrice Che abbiamo La New Holland Quella sottospecie Sì Quella piccolina Sì Quella tonda Che io con le balle tonde Proprio Non sono buono Non ci vado d'accordo Nemmeno io Allora Ma che sia per Le Quelle di Fieno Io con le tonde Le faccio solo di fieno E basta Quelle che Sono di palli Le faccio quadrate Ma non cambia Ma non cambia niente Teppie Ne paglia Alla fine E a livello Di balle Non è che una laga Una Piose di più Una di meno No perché Non mi piacciono Le balle Di paglia E come dai A mangiare Le trovate Di rotonde Non mi piacciono Non mi piacciono Rotonde Quadrate Allora Io inizio già a fare Cavolate qua in retro Io e le retro Non andiamo d'accordo Come saprete Penso L'avrà già detto Io e le retro Non andiamo d'accordo Adesso farò Dieci milioni Di miliardi Eccolo che mi viene addosso Vai 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 Non andiamo d'accordo Mona Mona Allora Ah no Ci dava il simbolino Che qua va bene Oh io taglio questo Eh guarda dove ce n'è un po' di erba Eh c'è un po' di erba Lo lì Sì va bene va bene Eh c'è neanche troppo lì Passo taglio un po' Vedo Sì sì Che ci deve venire un po' di erba Poi però non abbiamo il ranghinatore Quindi ci serve anche il ranghinatore Dobbiamo prenderlo Un voltafieno Il voltafieno ce l'abbiamo Abbiamo quello piccolino Piccolino ce l'abbiamo Però il ranghinatore no Quindi ci tocca prenderlo Ma sicuro che Ah sicuro che non ce l'hai No ci danno solo il voltafieno Ci danno tutto tranne il ranghinatore E altri isol Allora boh Stranamente ce l'hanno presa tutta 4.900 litri Giusti giusti Allora Questo carretto qua Adesso direi che Va bene Diffiamo anche il caromiscelatore Allora Lo riparcheggiamo qua di nuovo Praticamente è più il tempo che ci ho messo a parcheggiarlo Cioè ad attaccarlo e cose che Puoi anche stoccarlo la paglia Dov'è? Si No a parte che abbiamo il placeable lips Quindi possiamo fare i macchie Si fa presto farlo Ah sì Allora Io adesso questo qua lo lascio qua Perché sto laggando Non riesco a fare manovre decenti E entro breve tempo Quindi Poi lo sistemo dopo Quando non laggo Quando non laggo Può essere anche tra una settimana Perché Costalina qua Non si sa mai Allora Eeeh Si No non so Stasera Cos'ha Sempre sui 120 130 Di ping Ma Ok Eeeh Niente Cioè E' impossibile guidare Così Anche senza fare apposta Fai danni di quelli che Ecco Vabbè Intanto qua la porta che si apre di colpo Ti sbatte via Cioè Ti fa volar via Allora Adesso vediamo di agganciare Sta sotto specie di imbalatrice qua Dai Benissimo Agganciata E Andiamo In campo Va bene Dai io Inballo un po' Ci penso io qua Poi Ci troviamo Più tardi Quando abbiamo finito Sto campo lì Magari anche l'altro Anzi Questo qua è finito Quando abbiamo finito L'altro Benissimo Come avevo previsto Ovviamente Devo fare dei La Si Devo fare Devo fare Devo fare dei danni Ecco Infatti Ho detto Adesso ricomincio A registrare Ha ricominciato A laggare Tutto il pezzo Che ho fatto Senza registrare Neanche mezzo lag Dico Adesso registro E ricomincio A laggare Questo è il risultato Perfetto Ma perfetto Proprio Intanto Mario È crashato Tanto direi Che possiamo Chiudere qua Il video Perché Ho controllato Abbiamo superato I 25 minuti Siamo quasi A 30 minuti Vedrò Magari Faccio qualche tagliettino Non lo so Va bene Allora Vi saluta Mario Se ancora vivo In TS Almeno Ciao a tutti Poi vi saluta Agro Che deve scappare Agro è morto Mi parlo Mi parlo Come un piccio Che got Il Il microfono Muto Ciao a tutti E vi saluta Fede Intanto io Resto qua Ribaltato Arrivederci E buon E Con l'immagine Di questo Steyer Ribaltato Intanto mi sono Incastrato Eccolo qua Con l'immagine Di questo Steyer Ribaltato Noi ci salutiamo Ci vediamo Al prossimo video Di questa serie O dell'altra serie O un film video O quello che sarà Ciao a tutti Alla prossima Ciao 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 Ciao